Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. È stata una giornata di dolore per Santeramo in Colle, con la tragica scoperta del corpo senza vita di Isabella Cianciotti, l'anziana scomparsa da lunedì scorso. Il suo cadavere è stato trovato in una traversa di Via Matera, nelle campagne circostanti la città nella provincia di Bari. La notizia è giunta grazie all'allarme lanciato da una donna che si trovava a passeggiare in quella zona. Isabella si era allontanata da casa il 6 maggio, poco dopo le 16, partendo da Via Montefreddo. Le sue figlie, preoccupate, avevano denunciato la sua scomparsa il giorno successivo. La comunità si era unita in un grande sforzo per ritrovarla, diffondendo la sua foto e le informazioni utili attraverso i social media. Durante i giorni di ricerca, diverse segnalazioni da parte dei cittadini avevano indicato avvistamenti di Isabella, persino a Gioia del Colle. Le operazioni di ricerca avevano coinvolto unità cinofile, droni e persino un elicottero dei carabinieri. Tuttavia, le speranze si sono infrante con la scoperta del suo corpo, avvenuta proprio l'11 maggio, ponendo fine alle ricerche. Le autorità competenti sono ora impegnate nell'indagine per determinare le circostanze del decesso. La comunità locale è colpita dalla tragedia e si stringe attorno alla famiglia di Isabella in questo momento di lutto e dolore.